Ciao e bentornato, con questa lezione iniziamo un miniciclo di tre video dedicati a una variabile estremamente importante per la fotografia che è la profondità di campo. Faremo due lezioni teoriche per capire di cosa stiamo parlando e successivamente passeremo alla parte pratica in modo tale da mettere in atto quello che abbiamo appena appreso. Come prima cosa quindi cerchiamo di capire che cos'è la profondità di campo? Con il termine profondità di campo, detta anche PDC, rappresentiamo praticamente tutta l'aria nella quale tutti i soggetti sono perfettamente nitidi o presentano una sfocatura talmente lieve da non essere percepita o più nudo. Quando noi mettiamo fuoco infatti mettiamo a fuoco su un determinato piano, quindi tutti i soggetti presenti su quel piano, appunto il piano di messa a fuoco, sono perfettamente nitidi, mentre il pian piano che ci discostiamo da questo piano, sia in avanti sia indietro, avremo i soggetti sempre meno nitidi. Questo fenomeno si verifica per il diverso comportamento dei raggi luminosi sul sensore. Quando praticamente l'informazione luminosa che raggiunge la fotocamera parte da un soggetto perfettamente a fuoco, viene registrata dal nostro sensore come un punto e quindi noi vedremo in quella zona i soggetti completamente nitidi. Mentre spostamenti lungo l'asse ottico, quindi in avanti e indietro di questo piano, provocano l'espansione di questo punto in un piccolo cerchio, che è chiamato cerchio di confusione. Man mano che questo cerchio diventa sempre più grande, i soggetti diventano sempre meno nitidi, fino a sporcarsi completamente. Quindi questo è il concetto principale di profondità di campo. Come puoi vedere anche da queste rappresentazioni, abbiamo un solo piano che restituisce al sensore la forma di un punto e poi pian piano, sia in avanti che indietro, abbiamo questo circolo di confusione. Il risultato ovviamente è che nelle nostre immagini presentano sempre un piano di messa a fuoco e tutto il resto che pian piano si sfuoca. Quindi in questa immagine del pinguino è perfettamente a fuoco il pinguino reale che è quello diverso dagli altri e poi pian piano si sfuoca, guarda in fondo gli altri pinguini che praticamente non si riconoscono neanche e anche in quelli in primo piano alcuni sono completamente sfocati, cioè si riconosce che è un pinguino ma non sono perfettamente nitili. Anche nelle successive immagini puoi vedere il piano di messa a fuoco e la relativa sfocatura che poi diventa sempre più ampia a seconda di quanto sia ampia appunto la profondità di campo. Quindi anche vedendo queste immagini possiamo vedere come la profondità di campo sia estremamente variabile, possa essere veramente ridotta o possa essere anche molto più ampia. Quindi come prima cosa vediamo come influenzare la profondità di campo nei nostri scatti in modo tale da saperla controllare in ogni situazione. Le variabili che intervengono nella profondità di campo sono essenzialmente queste, analizziamole una a una. La prima variabile che abbiamo già visto anche in precedenza parlando della diaframma è appunto l'apertura di questa componente. Con piccole aperture di diaframma abbiamo una diminuzione della profondità di campo fino ad arrivare praticamente nulla, mentre con grande aperture del diaframma la profondità di campo aumenta notevolmente. Come al solito verifichiamo questi concetti tramite un software che abbiamo già visto in precedenza che ti avevo detto che avremmo usato per la profondità di campo. Tralasciamo i discorsi relativi al fattore di crop sul quale abbiamo analizzato questo software e adesso concentriamoci sulla profondità di campo, proprio l'utilizzo per il quale è nato questa simulazione. Quindi capiamo diverse variabili, focale, aperture del diaframma, distanza e via discorrendo. Quindi lasciamo fissere tutte le variabili, in questo caso muoviamo solo il diaframma e vediamo nell'immagine come cambia la sfocatura dello sfondo. Portiamo il diaframma al minimo e vedi che alla grande apertura del diaframma, quindi a piccoli numeri di f, abbiamo una grande sfocatura dell'immagine. Per mano che saliamo con il diaframma vedi come lo sfondo diventa sempre più nitido, quindi in questo caso aumentiamo la nostra profondità di campo. Presta attenzione che l'apertura del diaframma è l'unica variabile di quelle che vedremo che non influenzano l'inquadratura, quindi tu puoi cambiare l'apertura del diaframma senza cambiare l'inquadratura, come puoi vedere cambia solo il livello di sfocatura. Vediamo sempre la stessa relazione del diaframma con la profondità di campo, sempre con lo stesso software, è una rappresentazione diversa e vedi come cambia aumentando o diminuendo l'apertura del diaframma e come cambia la profondità di campo. I termini iperfocali che vedi lì a fianco lo affronteremo nella prossima lezione e vedi come la profondità di campo è divisa in davanti al soggetto e dietro al soggetto e le percentuali cambiano a seconda dell'apertura del diaframma e in questo caso guardando i valori lì in alto passano da un totale di 2,23 m fino ad arrivare a un minimo di circa 30 centimetri, quindi un bel dislivello, ma comunque può essere anche molto più ampio il dislivello come vedremo anche con le prossime variabili. Un'altra grandezza che influisce sulla profondità di campo è la lunghezza focale. La profondità di campo diminuisce con grandi lunghezze focali quindi avvicinandoci ai teleobiettivi mentre aumenta con piccole lunghezze focali quindi avvicinandoci ai grandi angolari. Vediamo anche questo con il solito software quindi lasciamo invariato in questo caso il diaframma e muoviamo ovviamente solo la lunghezza focale che era in alto e come puoi vedere esattamente man mano che utilizziamo il teleobiettivo quindi aumentiamo la lunghezza focale e aumenta notevolmente il grado di sfocato all'interno dell'immagine mentre tornando indietro ovviamente avremo il caso opposto. Anche in questo caso guardiamo l'altra rappresentazione che ci offre il programma e in questo caso guarda come cambia il proprio fenale di campo utilizzando un grandangolare è praticamente infinita mentre man mano che utilizziamo il teleobiettivo si restringe fino ad arrivare veramente minima e anche a pochi centimetri fino a 20 centimetri di dimensione della profondità di campo quindi anche la lunghezza focale ha un'estrema influenza sulla quantità di soggetti messi a fuoco e quindi sulla profondità di campo della nostra immagine e questo lo osserviamo tranquillamente in qualsiasi immagine che facciamo queste fotografie per esempio sono fatte con un teleobiettivo circa 200 mm se non mi ricordo male e vedi come esempio in questa fotografia dell'elefante marino è perfettamente a fuoco solo il naso addirittura non è a fuoco tutto l'animale e anche nelle altre immagini abbiamo una grossa presenza di sfocato quindi il teleobiettivo viene praticamente usato per risaltare il dettaglio in questo modo risalta molto di più il soggetto mentre le altre immagini che sono immagini paesaggistiche fatte con un grandangolare che quindi serve proprio a dare un'idea generale della scena quasi tutto il frame quasi quindi tutta la composizione è perfettamente a fuoco la terza variabile che influisce in maniera evidente sulla profondità di campo e la distanza esistente tra il soggetto e la fotocamera se il soggetto è vicino alla fotocamera la profondità di campo diminuisce man mano che il soggetto si allontana dalla fotocamera la profondità di campo e quindi la quantità di elementi perfettamente nitidi o accettabilmente nitidi aumenta vediamo anche questo tramite il nostro software lasciamo invariate 200 mm di lunghezza focale e un'apertura di graframma di 3,2 e ci muoviamo unicamente per quanto riguarda la distanza tra il soggetto e la fotocamera e anche in questo caso puoi vedere come man mano che il soggetto si avvicina alla fotocamera la profondità di campo diminuisce in maniera drastica fino ad avere praticamente alla condizione massima ad avere a fuoco solo gli occhi quindi solo una piccola parte del soggetto e anche in questo caso puoi vedere la rappresentazione e vedi come cambia la profondità di campo in questo caso cambia da quasi un metro e mezzo fino ad arrivare a circa tre centimetri tra cinque centimetri quindi una profondità di campo veramente ridotta ovviamente in questo caso la profondità di campo è così ridotta perché abbiamo usato anche bisogna vedere anche gli altri fattori piccole aperture di diaframma quindi 3,2 e grandi lunghezze focali 200 mm quindi abbiamo tutti le variabili che rimano contro quindi in questo caso la profondità di campo è veramente minuscola quindi con quest'ultimo esempio abbiamo visto come saper gestire tutte e tra le variabili permette di modificare in maniera anche abbastanza evidente le dimensioni della nostra profondità di campo e quindi la quantità di soggetti che sono perfettamente a fuoco un fattore veramente importante che ti permette di incidere in maniera evidente sulla comunicazione dei tuoi scatti infatti generalmente lo sfocato viene utilizzato per dare importanza a un soggetto o anche un'azione o uno semplice dettaglio di quell'immagine mentre una profondità di campo molto ampia viene usata appunto nella fotografia di paesaggio o di architettura per dare un'idea generale della scena e quindi deve essere qui tutto perfettamente nitido con questa prima lezione abbiamo giusto inoltrato le basi della profondità di campo adesso passiamo a capire come funziona l'iperfocale e soprattutto che cos'è questo elemento e l'importanza per i nostri scatti